buongiorno a tutti andiamo a che funzioni tutto quanto mi pare di sì buongiorno a tutti sono carlo piemonte direttore del cluster arredo e sistema a casa del tributo di venezia giulia e oggi faremo faremo una chiacchierata una approfondita riflessione su quelle che sono le strategie per lo sviluppo dei sistemi commerciali nei sistemi distributivi in particolare andremo ad analizzare quello che sono i concetti legati alle reti di impresa un argomento di cui se ne è parlato tanto in vari modi cerchiamo di dare un po una visione più completa o forse non più completa ma più concreta perché la nostra società gestisce sei reti di impresa ogni santo giorno e quindi proviamo a trasmettere quello che è la nostra esperienza quelle che sono le strategie detto questo faccio un saluto a tutti quanti in particolare ai ragazzi dell'its arredo che so che dovrebbero seguirci quindi un saluto a tutti voi e per qualsiasi domanda qualsiasi problema interrompetemi pure tranquillamente sulla chat ma prima dalla regia mi dicono che bisogna vedere bisogna spiegarvi come funziona qui in macchinaio se la linea interna non è sufficiente potete bloccare il video qui se no che funziona il video se sentite che vado a scatti interrompete il video tanto io sarò sempre quello di tutto il tempo e lasciate solo la modalità audio così almeno sentite cosa vi racconto in caso di uscita dall'aula se per qualsiasi motivo uscita dall'aula virtuale è sufficiente ripetere la conoscenza di login stessa cosa sostanzialmente chat potete sottoporre le vostre domande al relatore usando la chat cioè qui ciao ecco ho scritto in chat una cosa se volete rispondere al ciao almeno so che c'è qualcuno dell'altra parte dello schermo perché è sempre strano parlare uno schermo e sapere chi c'è di là quindi se volete rispondere al ciao benvenuto così almeno so un po' di nomi e guardo chi c'è intanto che tutti rispondono al ciao io vado avanti no torno indietro e vediamo un po' vorrei far partire il questo funzionario il quiz praticamente è un po' un sondaggio che ci piace fare però i ragazzi dell'ITS arredo sanno già tutte le risposte dopo l'ultima lezione che hanno fatto con me vorrei capire dal vostro punto di vista qual è l'immagine dell'arredo in questa regione perché è un po' distorto probabilmente no? quindi vorrei chiedervi di rispondere quante aziende ci sono in Friuli Venezia Giulia del settore arredo secondo voi? secondo quello che sento ora non secondo una ricerca ma quello che sentite quindi quante aziende ci sono in Friuli Venezia Giulia nel settore arredo? vediamo un po' via le risposte qui potete rispondere quindi rispondete rispondete molto liberamente chiuso ecco qua si vede che sono i ragazzi secondo me dell'arredo che hanno io ho già fatto una testa tanta bene 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 ecco la risposta giusta è 3000 quindi il sistema casa conta circa 3000 aziende di cui più di 2000 solo dell'arredo in senso stretto per dare una dimensione di quello che è il settore oggi che sono numeri impressionanti proviamo a parlare anche di valori andiamo alla prossima domanda quanti occupati hai nel settore? 5, 10, 20,000 anche qui ristinto tranquillamente senza nessuna preclusione andiamo andiamo fa così strano fare queste cose davanti alla web che non sono abituato quindi interagite almeno un pochino in chat per piacere perché se no mi sento veramente solo 5, 10,000, 20,000 qui sempre secondo me incide gli amici dell'ITS quindi vuol dire che 20,000 persone in questa regione lavorano nel settore arredo dopo vedremo anche le proporzioni con gli altri settori però ci tengo a trasmettere quello che è la dimensione dell'arredo anche perché quando si parla un po' di strategie commerciali e non è giusto tararle sulle nostre dimensioni altrimenti rischia di essere in se stesso discorso proviamo ad andare alla prossima e ultima ultimo questionario qual è il valore del fatturato dell'azienda del Friuli Venezia Giulia? 100, 803 miliardi avanti tutta con le risposte ci siamo esatto la maggior parte di voi ha risposto 3 miliardi questo è il valore cioè il sistema arredo in questa regione vale più di 3 miliardi nel 2015 adesso cioè a me capita di pensare ma in realtà si è perso molto sì è vero si è perso molto in termini dimensionali rispetto agli anni 90 al 2000 però quello che oggi il sistema arredo con le innovazioni, con la modernità, con tutto quello che è la commercializzazione vale 3 miliardi quindi immaginate quanto pesa ecco qui i dati corretti si parla di un fatturato di Friuli Venezia Giulia di 3 miliardi quasi il 10% del fatturato italiano sul mobile mobile arredo valore aggiunto quindi tutto il valore che viene posto parliamo del prodotto finito dal prodotto materiale fino al prodotto finito 821 milioni quasi il 10% dell'Italia gli occupati anche qui siamo sull'8% dell'Italia quindi è un dato che mi interessava trasmettervi adesso ne vedremo altri proprio per iniziare a capire qual è il peso di questo settore quali sono le dinamiche commerciali però adesso veramente mettetemi un segnale sulla chat fate di capire che ci siete perché non ho nessuno che mi iscriva paura di essere ancora solo almeno so che c'è qualcuno intanto vado al prossimo slide eccolo qua dati sull'occupazione prima abbiamo detto 20.000 ma quanto vale la ragione questo? perché molti di voi magari sono legati al mondo dell'occupazione piuttosto che vogliono conoscerlo immaginate che il 18,3% delle persone che lavorano in Friuli Venezia Giulia nel manifatturiero sono nell'arrego che in termini percentuali ci porta ad essere la prima regione la prima regione in Italia come incisività del nostro settore sul manifatturiero quindi in termini assoluti in termini numerici quindi non proporzionali al terzo posto dopo Veneto e Lombardia quindi un settore trainante di questa economia l'export e qui ci iniziamo ad avvicinare al tema delle strategie commerciali per le reti distributive l'export un miliardo e mezzo il 13% dell'Italia come aree di specializzazione se comprendiamo e vi parlo dal nostro ufficio del distretto del mobile di Bruniera che inaugureremo questa sera alle 17.30 immaginate che se mettiamo insieme quindi le due aree principali distretto mobile distretto serie alcune aziende che sono sparse per la nostra regione come aree di specializzazione la seconda in Italia per esportazione di mobile dove l'Europa vedete i numeri sotto fa praticamente il 50% 6 USA 3 4 Russia ecco allora che vedete anche i dati la Russia tra l'altro è in calo stratosferico negli ultimi anni è andata giù del 50% l'export di tutta l'Italia verso la Russia eccoci allora abbiamo fatto un po' questo quadro abbiamo capito che prima di fare tante strategie è giusto capire qual è il nostro bacino di attori che può interagire in modo efficace sui mercati partiamo da un concetto le reti di impresa se ne è parlato veramente un sacco negli ultimi anni si è parlato di reti come fossero una soluzione alla situazione di transizione che l'Italia stava passando in realtà le reti sono semplicemente uno strumento non è detto che sia anche il migliore sinceramente poi lo analizzeremo però è uno strumento è uno strumento che prende origine da quello che era il Gentiles Man Agreement inglese però ho anche detto che in Inghilterra hanno come diritto il common law e non il civil law come in Italia quindi le consuetudini soprattutto e vale il precedente giuridico emanato dai giudici in Italia hanno inventato il contratto di reti secondo me è uno strumento che se usato bene può essere anche utile come mezzo sempre parlo mentre l'aggregazione tra imprese tra PMI per andare a commercializzare all'estero è sicuramente la strategia quella è la soluzione la rete è una forma quindi andiamo dalla definizione le reti di impresa sono forme di aggregazione di imprenditori attorno a un progetto condiviso andiamo a fare un disegnino qua no non sono capace con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispetti gli oggetti sociali nello scopo di accrescere ecco qua la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato analizziamo gli elementi principali sono forme di aggregazione vuol dire che non sono nuove aziende cioè la rete di impresa salvo certi casi un po' particolari però mi garantisco che è residuale sono delle forme di collaborazione ci si mette d'accordo per fare un progetto condiviso cioè lo facciamo insieme in poche parole invece di farlo da solo invece di andare a New York da solo ci andiamo in 2 ci andiamo in 10 ci andiamo in 20 però solo per andare a New York piuttosto che per fare l'internazionalizzazione quindi le aziende restano totalmente autonome andiamo alla slide dopo no restiamo sulla definizione ancora un momento ecco concettualmente quindi la reciprocità vedete quel punto a crescere la reciprocità se la faccio a fare un po' di interazione vediamo ecco la qua la reciprocità la reciprocità è fondamentale perché vuol dire che entrambe devono avere un beneficio non è una filiera verticale per cui io do lavoro a tetto del lavoro a me quella è una filiera quella è un'altra cosa viene alle volte anche inserita in una rete di impresa però quando c'è o una filiera è verticale e propone all'esterno un servizio finito quindi un nuovo modo di proporsi al mercato allora ha senso altrimenti se c'è una macro impresa che ha 7-8 sub fornitori ok difficile parlare di reciproca capacità innovativa e competitiva la grande che distribuisce il lavoro insomma governa quelle che sono le dinamiche di quelli sotto invece no la rete dice insieme dovete fare delle cose ecco quali cose qua si parla di capacità innovativa che vuol dire tutto vuol dire niente e la competitività sul mercato anche quello vuol dire tutto vuol dire niente ma è positivo perché in realtà ci permette poi di inserire nel novelo di questo contratto diverse numerose numerose in realtà numerosi contratti di rete per andare sul mercato vediamo un pochino i vantaggi delle reti di impresa allora se avete domande cortesemente fate nelle senza problemi così anche interagiamo un po' è un piacere sarà un piacere rispondere anche a cose curiosità sull'arredo intendo sul sistema arredo chiaramente non sull'arredo specifico vado avanti aiuto per le piccole imprese che devono far fronte alla richiesta di investimenti cioè cosa significa se lo facciamo insieme concettualmente se lo facciamo insieme in qualche modo riusciamo a investire di meno e magari ottenere il stesso risultato o addirittura maggiore faccio l'esempio molto semplice che si ricollega un po' alla seconda sotto grazie Walli per aver dato un contributo allora immaginate che un'impresa deve andare sul mercato giusto deve incontrare facciamo un esempio nel mondo dell'arredo piuttosto che altre deve incontrare cinque architetti che sono un po' il bacino tipico dell'impresa dell'arredo che vogliono andare sul contract allora molto semplicissima base io vado sul mercato vado su l'arbia saudita ci permette spesso di andare devo organizzare gli incontri devo trovare un'agenzia che mi organizza gli incontri con i cinque architetti ben amati architetti vado pago torno a casa bene ho fatto il mio ho pagato x se semplicemente avessi avuto con me altri due colleghi di altre tre aziende complementari alla mia non concorrenti chiaramente ecco avrei pagato x diviso 3 quindi io potrei investire non in un evento non in un solo incontro con gli architetti all'anno ma a tre perché se dividiamo le spese base 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 è proprio la regola del condividiamo là dove possiamo no allora ecco e questo si moltiplica tantissimo per il fatto che operando ormai su mercati globali vi ricordate l'export di un miliardo e mezzo il mercato è grandissimo cioè gigantesco un'azienda da sola non può o salvo che non siano chiaramente aziende strutturate con parliamo di strutture di centinaia milioni di euro di fatturato anno è difficile che riesca a coprire costantemente i mercati globali da sola e anche aggregandosi non vuol dire che ce la faccia però vuol dire che ci prova a fare più cose quindi se io vado con gli altri tre colleghi miei due o tre colleghi miei da questi architetti che io faccio che ne so divani un altro fa finestre un altro fa pavimenti alla fine non mi tolgono niente ma siamo tutti soddisfatti alla fine tutti quanti abbiamo conosciuto gli architetti tutti quanti andremo avanti l'importante non essere in concorrenza quindi andare in questo modo andare in questo modo ti permette di fare investimenti minori per ogni singolo evento e quindi farli di più in un anno organizzarti meglio perché magari con i tuoi colleghi riesci a pianificare meglio come presentarsi sei più accattivante potete immaginare sempre rivolgendosi a questo benedetto architetto che ci aspetta che ha la fila di gente che viene proprio gli mobili sedie presentarsi come gruppo magari il architetto dice beh un colpo solo ne conosco tre chiaramente queste non sono teorie tutta pratica storie di vita vissuta come si dice eventi che si fanno in giro per il mondo e che pertanto danno questo riscontro quindi questo è il primo vantaggio il primo nucleo di vantaggi il secondo ah si le foto che avete visto scusate questo era un evento che abbiamo fatto a Baku dicembre dell'anno scorso quasi un annetto fa della rete Italia Fall Contract e poi avremo modo di parlarne questo invece è un'altra rete di imprese questa era una fiera che abbiamo fatto a Jedda molto semplice niente di complicato in questo caso però funzionale in rabbia saudita quindi altri vantaggi mantenimento dell'indipendenza ogni azienda tutto vero ma come si fa a trovare entrerai in reti che funzionano eh lì è una bella domanda però ti rispondo dopo perché entrare in una rete è difficile perché è un club privato non è un'iniziativa pubblica è lo stesso concetto della prima riga ciao Gianpaolo ma sai cosa cosa ne penso oh mi piace che sia un po' di discussione che sento meno solo io credo personalmente questo è stato fatto anche una ricerca dall'università di Dublino su di noi e sull'ACRIB che è il cartone ah sì dovevo leggere le domande la domanda perdona schiettezza a parere tuo siamo mentalmente pronti e predisposti a fare rete tra di noi schiettezza perfetta ti rispondo con un'altra domanda la faccio sempre semplice poi capiamoci poi entriamo sullo specifico dato che abbiamo ancora una mezz'oretta 40 minuti da stare insieme però è come dire andiamo andiamo a cena insieme andiamo un gruppo di amici andiamo a cena insieme siamo già amici tendenzialmente andiamo a pagare il conto io ho preso anche il dolce tu non l'hai preso l'altro ha preso la fiorentina uno ha preso la pasta asciutta e basta però siamo un gruppo di amici vabbè si divide tra di noi non sono problemi tanto è una volta a testa la prendo larga per provare a condividere un pensiero proviamo a pensare un gruppo di conoscenti sì e no ci conosciamo andiamo a fare questa mangiata ok se tu hai preso la fiorentina pagati la fiorentina io ho preso la pasta asciutta e mi pagherò la pasta asciutta facciamo finta di essere un gruppo di concorrenti non proprio tanto amici non vengono a cena ecco allora la tua riflessione mentalmente noi siamo tutti pronti a fare aggregazione laddove ci sono le condizioni spero di averti risposto alla domanda e quando vedrai poi i casi di noi gestiamo 6 reti di impresa circa 60 aziende tra cui 5 di qua 10 di là 8 di in su posso garantirti che non è facile non è facile e l'esempio della cena può essere un po' semplificativo per dare un'idea quanto sia difficile fare poi chi gestisce questi gruppi per Walle che ha chiesto ma come si fa a trovare entri a rete che funzionano non le trovi sono loro che trovano tre spesso quando noi gestiamo proprio ieri ieri mattina all'ottun quarto due aziende nuove sono entrate nella rete stanno entrando nella rete Italia for contract è un percorso di un anno in cui un'azienda si conosce si crea un rapporto non solo umano anche di business mentre un altro gruppo un'azienda si è trovata bene era giustamente complementare è entrata subito dipende da caso a caso dipende da caso a caso dipende cosa fai ti ricordi prima io do a tutti del tuo l'avvio avviso quindi mutuo soddisfacimento mutuo soddisfacimento mutuo soddisfacimento vuol dire che tutti e due devono essere contenti se tu fai già se tu fai già magari hai già un'azienda che fa letti e nella nostra rete c'è già chi fa letti è difficile che tu riesca ad entrare è più facile costituirne una e quello ce ne vediamo dopo ecco guardate questa slide e vi propongo questa riflessione quindi mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese non è un consorzio la rete per il consorzio vi spiego cos'è mettiamo noi la nostra società un SRL consortile vuol dire cooperiamo per il bene dei consorziati ok per tutti i costi si condividono una rete invece ognuno ha la sua identità la rete è lo strumento vedete anche la foto l'Italian Certific è sopra mentre l'identità dei singoli sono più forti l'Italian Certific come faccio un cappello poi questa è la nostra strategia non dico che sia la strategia una strategia ehm 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 eh sì Giampaolo Giampaolo dice grazie si è chiaro concordo non è facile serve costanza mentalità impegno di tutti eccetera sì questo questo sì poi parleremo Giampaolo anche della figura del cluster manager più avanti che è una figura che in Italia non esiste dopo ne parliamo anche di quello quindi la rete la rete non è un consorzio la rete non è un consorzio ognuno ha la sua identità ognuno deve fare il bene per se stesso e in qualche modo condividere il percorso quindi è uno strumento adatto al tessuto economico italiano perché eh come dice Giampaolo eh mentalmente fare le fusioni in Italia c'è una visione non aziendalistica personalistica delle aziende e non è né bene né male però è così quindi l'azienda in tanti casi è la persona eh e quindi fusioni tra persone cioè un po' difficile collaborazioni già più accettabile eh Guglielmo Treossi come faccio a sapere se ci sono e quali sono le aziende disponibili a fare rete mh cavolo questa è una domanda complessa come fa di prima non c'è un elenco non c'è un elenco ci sono io vi porrò in evidenza le reti che gestiamo noi nell'arredo le conosco diverse della meccanica diciamo che ci sono dei punti nella nostra regione siamo secondo me fortunati perché abbiamo in particolare un paio di cluster noi sulla regola sull'arredo scusate e il comet sulla meccanica che gestiscono anche loro un serie di impresa se non sbaglio e quindi magari per chiedere la meccanica dell'arredo ha già un punto di riferimento con cui parlare per gli altri settori non è facile non è per niente facile non è veramente facile poi magari quando andiamo sulle singole reti ti racconto qualche aneddoto per capire come siamo arrivati lì strumento adatto al tessuto economico italiano torno sul punto solo per dirvi perché siamo il 98% sono piccole imprese in Italia piccole e medie 99% piccole e medie ecco che allora metterle in qualche modo a sistema in modo complementare non concorrenziale per essere concorrenziali con il mercato può funzionare da lì ricoprire aree di specializzazione quindi cosa vuol dire mettere insieme e mettere insieme diverse diverse specializzazioni c'è chi fa la cosa vedete anche qua ad esempio questo tipo di seduta è totalmente diverso da quello che fa questo tipo di azienda che è totalmente diverso da questa quindi la complementarietà è fondamentale vado avanti così vediamo cosa c'è dopo ecco guardate bravi siamo arrivati alle barriere cioè le domande che state ponendo sono la maggior parte qui dentro allora vabbè forte interazione di vari stakeholder vabbè quello si risolve presenza di visioni imprenditoriali differenti primo limite quindi fatto 100 faccio un foglio però che faccio un po' di disegno ah no aspetta posso fare il disegno anch'io disegna poi voglio fare un disegno allora no scusate allora facciamo finta che questo sia il mondo delle imprese in un'area territoriale no da queste dobbiamo vedere presenza di visioni imprenditoriali differenti quindi supponiamo che all'interno di tutte queste sono tutte le imprese no all'interno di questo questi hanno una visione simile cioè ad esempio l'internazionalizzazione no piuttosto che la commercializzazione via negozi poi indisponibilità nel divulgare e condividere informazioni e beh tanta gente ha paura che sebbene uno non sia concorrente diretto dice ma io gli passo il contatto a questo che poi lo passa a un amico e mi ruba il lavoro sono pochissimi i casi quelli che lo fanno una vita corta quindi ristingiamo tanto il campo stipulazione e vincolo del contratto ok fa paura all'inizio però al momento in cui si spiega il contratto lo si chiarisce bene e tutto quanto questo posso dirvi che pochi di quelli che lavorano con noi hanno si sono tirati indietro per paura del contratto perché è un contratto molto snello poi magari ne parliamo nelle slide dopo però in realtà scade ogni anno però comunque posso garantirvi che all'inizio forse fa più paura il concetto della rete che il contratto stesso mi faccio una battuta che feci che feci a una conferenza in cui mi invitarono per parlare di reti di impresa e mi dissero dato che noi abbiamo una certa esperienza di parlare delle reti e mi riportai una battuta dicendo guardate ho parlato con un'impresa che mi dice Carlo sai cosa servono le reti e loro risolvono ti servono a prendere i pesci e io non sono un pesce quindi questa visione un po' attrappola forse la parola network non lo so vabbè anche il marketing è importante però per dire il concetto di un contratto di rete tanti imprenditori piccoli soprattutto non parliamo di imprese più sviluppate si rigidiscono a momento magari non conoscendogli aspetti però è un problema sono ore 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 presenza di eventuali comportamenti opportunistici beh anche questa questa c'è però si auto eliminano durano poco invece secondo me il vero vero problema vero problema adesso vediamo come fanno quelli bravi con il evidenziatore vediamo se c'è eccolo qua sa che bello è questo difficoltà nell'individuare un cluster manager perché perché il cluster manager vediamo vabbè mi avete capito dai il cluster manager è una figura professionale che in Italia non viene formata in nessun modo io sono 10 anni che sono nel settore arredo è bravo guglielmo questo è il punto il cluster manager guglielmo ha chiesto chi fa da coordinatore o facilitatori tra diverse identità è proprio il cluster manager l'organo comune il gestore insomma non chi comanda ma come dici chi coordina coordina innanzitutto questo è il nostro dal mio punto di vista è difficile che sia un'impresa della rete sono poche sono poche sono pochissime le sono pochissime le realtà che conosco che stanno facendo un bel percorso di rete bello in senso c'è bello il butto però gestito da un'impresa della rete perché perché per questa impresa è affaticante gestire una rete di imprese di 6 4 10 aziende sono ore 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 di lavoro tantissime tantissime ore tantissime credetemi è stanuante cioè il mio staff noi siamo i 11 nella nostra azienda di cui che si occupano di reti 4 me compreso quindi capite che fare il cluster manager significa essere un'impresa o un manager un soggetto che deve sapere tanti di quegli elementi che c'è da avere mal di testa c'è da avere sapere elementi di problem solving i problemi gestire la rete è uguale gestire x problemi per numero di aziende dall'altro lato dall'altro lato deve sapere gestire i rapporti diplomatici perché comunque è normale il contrasto il confronto dall'altro lato ancora rapporti commerciali perché una rete non è che nasce per fare filosofia una rete commerciale nasce per distribuire il prodotto nel mondo per aprire canali distributivi per creare rapporti quindi commerciale una cultura internazionale se si vuole fare la rete nella internazionalizzazione una cultura legale perché io dirivo da giurisprudenza perché veramente quando affronti certe tematiche nei rapporti societari è molto molto delicato e anche alle volte è un po' una cultura psicologica perché devi saper andare in certe direzioni rispetto a altre e avere il carisma e la condivisione di chi hai di fronte della squadra che hai di fronte altrimenti rischi di andare a caso vai di qua vai di là e si perde molto tempo dove trovare un cluster manager è bravo non c'è un eletto o meglio esistono esistono delle associazioni di reti d'impresa noi non ne facciamo parte di nessuna però quello che posso dirti se sei nel settore arredo puoi iscrivere a noi tranquillamente se sei nel settore della meccanica puoi iscrivere al comment quindi poi in regione ci sono cinque cluster società private per lo sviluppo dei vari settori noi siamo quella dell'arredo del sistema casa quindi dipende dall'ambito proprio perché questo è quello che riteniamo almeno noi perché noi siamo forse quelli che spingiamo un po' di più sul discorso delle reti e riteniamo che per gestire una rete non possa io oggi gestire la rete dell'arredo e domani mattina quella del pesce perché le dinamiche commerciali talmente diverse che ti trovi o conosci la materia o non la conosci non puoi far finta anche perché la tua conoscenza si esplode verso tutte quelle aziende che hai di fronte che più delle volte sono molto esperte sono specificatamente esperte sul loro argomento ma magari conoscono meno tutto l'argomento al redo e lì funge da integratore di conoscenza questo è un bel concetto l'integratore di conoscenza che proprio questa ricerca che si sta facendo questo docente di Dublino cioè che il nostro ruolo quello del cluster manager è integrare la conoscenza delle varie aziende non solo all'interno della rete ma tra reti quindi dinamiche di mercato globale che io affronto magari con Fantoni Moroso piuttosto che ho delle conoscenze che magari possono essere utili anche a quelle minori consigliando o sconsigliando di fare certe cose non per forza bisogna internazionale della rete internazionalizzare bisogna però innovare innovare non vuol dire termini tecnologici per me ma innovare con la testa ad esempio aprire una rete distributiva nuova sviluppare rapporti commerciali nuovi è quello fondamentale ecco questo l'ho messa come riflessione una riflessione che ci porta a dire la rete non deve mai essere il fine del progetto ma il mezzo per realizzarli troppe volte in questi anni ho visto che il successo era abbiamo fatto la rete va bene l'hai fatta ma poi vi farò vedere la scritta dietro me che ovviamente racchiude al meglio tutte le sfide che dobbiamo portare avanti quindi la rete concepiamola come lo strumento per fare delle cose non altro rete contratto sì è tutto chiaro se avete domande come vedete sono a massima disposizione rete contratto sì rete contratto soggetto no questo sempre la mia opinione personale però insomma ha un senso questa opinione credetemi allora sì e dopo Valentino la curiosità Valentino cosa c'è scritto dietro a lei o dietro a te anche del tuo state a fare i problemi proprio perché di base sono un manager non sono uno che fa di lavoro le docenze e datemi quindi tranquillamente del tuo c'è una scritta che comunque racchiude un pochino tutto quello che sono le difficoltà anche se incontro ogni giorno per fare attività di cluster management però la leggiamo dopo vi tengo fino alla fine se no mi andate via prima magari un pochino verso spazio ecco torniamo alle domande di Sara ciao Sara tra l'altro vincitrice della borsa di studio che è stata consegnata ieri sera quindi complimenti rete contratto rete soggetto rete contratto vuol dire noi aziende ci mettiamo d'accordo per fare una cosa non facciamo una nuova società non facciamo una nuova partita iva la partita iva serve un numerino con il quale si identificano la faccio molto semplice è banale le transazioni diciamo così le fatture le transazioni commerciali incappano un soggetto giuridico che è una personalità è come se fosse una persona però è una persona che in realtà non esiste ma è un'azienda immaginiamo con la rete soggetto si crea una partita di una nuova con la rete contratto non si crea quindi tutte le transazioni restano in capo a chi? o alle aziende o al soggetto gestore della rete ok? rete contratto si perché? perché mette d'accordo le parti nel fare una cosa andare in giro per il mondo individuano un organo comune un soggetto come nel nostro caso la nostra società piuttosto che altre e noi ci facciamo carico di raccogliere i costi e di suddividerli tra tutte le aziende è un modo per ripartire l'attività avere budget sempre molto chiari fare quello che serve e andare avanti perché rete contratto no? perché nel momento in cui tu crei una partita in IMA ti si crea tutta una serie di normative giuslavoristiche civilistiche tributaristiche che poi nella giurisprudenza cioè quello che hanno deciso i giudici non è ancora consolidata allora dato che un'impresa è già abbastanza roglie da mattina a sera perché cercano le altre? molto meglio in quel caso lì fare o una TS una stazione temporanea di scopo riconosciuta dal notaio o una T una stazione temporanea di imprenda con quelli puoi anche andare a fare le gare di appalto no? ad esempio nel mondo il contratto di rete per gli appalti non è molto riconosciuto anzi viene visto in modo strano perché è un giante smanere limit nella cultura anglosassone che ha un valore relativo per sottoporlo a certi tipi di gare quindi ecco rete contratto sì anche perché c'è una situazione giusta giuridica per cui insieme basta in realtà il cliente o il soggetto dall'altra parte potrebbe dire ma fada un momento per me questi sono tutti un'unica entità bene faccio con uno tanto io mi sento garantito con tutti succede che quest'uno del gruppetto salta fallisce capita gli altri due sono solidamente responsabili vuol dire che si assumono tutte le responsabilità dell'altro in quanto si sono dimostrati come una specie di società di fatto e quindi in quel contesto sono a rischio di pagare tutte le cose che hanno sbagliato l'altro l'ho semplificata molto però credetemi che è così se tu invece fai la rete contratto la registri dal notario c'è la registrazione viene scritta sulla tua misura camerale quindi la misura camerale sarebbe un foglio insieme di fogli che dice chi sei cosa fai che azienda è quanto fattura tutte queste cose qui è scritto anche membro della rete cicciomello e in questo modo lo puoi opporre agli altri e dire no guarda noi non siamo una società di fatto tu dovevi vedere se tu volevi essendo una cosa pubblica andare sulla mia misura camerale e vedevi che facevo parte della rete XY ecco quindi ecco la positività di fare le reti contratto per avere di base meno rogne e per disciplinare la gestione di un progetto vi ho risposto abbastanza bene poi non vado nei dettagli però sono stato chiaro per riuscire a farvi capire la differenza tra le due reti quindi rete contratto non creo un nuovo soggetto ma creo un progetto che condivido e faccio capo a altre realtà però sono comunque ognuno a casa sua per capirci rete soggetto creo un nuovo soggetto giuridico una partita IVA apro tutta una serie di problemi normativi rischiando anche di non essere riconosciuto negli appalti in giro per il mondo così è il manager di rete opera nell'ambito del contratto di rete ho fatto prestazione cosa mi sa sto leggendo ecco qua iniziamo ad adentrarci un po' su quello che facciamo da mattina a sera però non facciamo solo questo facciamo anche altre cose però parliamo di questo allora prestazioni consulenziali manageriali di base a questo vuol dire cerchi di dare consigli sperando che siano quelli giusti e intelligenti ma soprattutto ma non soprattutto e anche gestisci le cose gestire le cose significa può sembrare facile ma non è così condividere un progetto vuol dire organizzare tutto quell'insieme di attività fattori che rendono un progetto un successo o meno allora sei un manager perché gestisci e hai la responsabilità faccio un altro esempio uno showroom temporaneo a Toronto piuttosto che la fiera di Jedda che avete visto ma anche piuttosto il semplice incoming di architetti o di distributori va organizzato e per organizzarlo ci vuole tempo responsabilità fondi ed è importante quindi il nostro ruolo è assistere nella fase propedeutica che significa accompagnare le imprese nella rete cioè se penso a Guglielmo che mi ha chiesto piuttosto che a Giampaolo faccio questo percorso di facciamo di accompagnare se due imprese vengono a parlarci dire vorremmo fare una rete e iniziamo a capire insieme se ha senso se non ha senso se ci sono già delle reti che conosciamo se 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 quindi la fase propedeutica specialistiche iniziamo prestazioni consulenziali specialistiche come ho scritto qua e beh colore questo non è tutto il massimo aspettate e giallo ecco specialistiche vuol dire andiamo sui temi cioè affrontiamo il mercato arabo affrontiamo l'organizzazione di distributori in giro per il mondo quello vai su per esempio diciamo gestione eventi attività quello che vi ho detto ecco il programma di rete ecco questa è una cosa interessante il programma di rete è una serie di punti che si definisce insieme si dice insieme bene io la rete la faccio per andare sulla luna bene nell'ambito dell'attività che sono concernenti all'andare sulla luna ci metto dentro tutto quello che ho quindi quello che posso fare ci metto il programma di rete invece internazionalizzazione il programma più ampio devo cercare di lavorare in quell'ambito lì però va fatto è fondamentale è un elemento imprescindibile di un contratto di rete avere il programma di rete centro di acquisto di fatturazione questa è una scelta non è proprio un obbligo viene comodo all'impresa avere un unico punto di fatturazione rifatturazione cioè invece di avere 60 diciamo che siamo facciamo finta di essere 10 imprese 10 imprese che ne so il signore che ha organizzato il catering deve fare 10 fatture devono ricevere tutti quanti no una fattura la prendiamo noi facciamo carico la ridistribuiamo portavoce ecco essere portavoce è importante perché sei un soggetto neutro non sei una delle imprese ma sei un soggetto neutro che può parlare per tutti si sente super partes vuole bene a tutti ma a nessuno e quindi in grado di portare quello che è la visione delle aziende funzioni di segreteria non è banale non è banale noi abbiamo una persona particolare di questo immaginate convocare tutte le riunioni vedere che la gente risponda alle mail non è cosa facile non sempre la gente risponde alle mail è una componente credetemi che può sembrare un po' banale invece è fondamentale ecco andiamo su un paio di reti in particolare vediamo se riesco a farvi vedere italiaforcontract.com ecco questa italiaforcontract.com è probabilmente quella più famosa all'interno ci sono dei marchi importantissimi del design dell'arredo del frio di Venezia Giulia non solo una rete che si sta allargando come vi accennavo provate a vedere gli eventi giusto per avere un'idea del mondo che abbiamo girato in un anno c'è sempre da migliorare attenzione non si è mai finito anche lì ho imparato tante cose come esempio all'interno del stesso arredo devi segmentare sebbene le esigenze specifiche cioè il mercato delle finestre è totalmente diverso dal mercato del mobile però sono cugini quindi ogni vicenda deve trovare i punti comuni da lì la difficoltà che vi dicevo di fare rete scusate di gestire la rete ci vuole veramente esperienza sul settore quindi date un occhietto al sito italian statistic for international markets in questo caso è una rete quella delle sedie quella che abbiamo visto prima in Arabia Saudita che abbiamo fatto adesso a Jedda a Jedda un bel stand un bel evento cose che trovate tutte su clusterarredo.com te lo scrivo così ecco lì altra make my design anche qui trovate il sito qui è qui un'altra avventura una filiera verticale cioè della segheria fino alla tappezzeria tutto quello che concerne la protezione di sedute ma non per andare sul mercato non per fare sedie e vendere sedie no per proporsi a chi vende sedie dovete immaginare che la gran parte no gran parte la bella fetta di aziende produttrici di immobili in realtà lavorano in sub fornitura cioè ho delle aziende esterne a me che mi aiutano fanno dei pezzi fanno una parte ecco la rete make my design di cui ieri sera abbiamo fatto l'evento a San Giovanni c'erano anche i ragazzi dell'ITS arredo a memoria di uno dei fondatori che purtroppo è morto in un incidente stradale otto mesi fa però la cosa importante è che si trasmette la capacità di collaborare con questa rete tra di loro sono piccoli artigiani o artigiani medio piccoli insomma attenzione medio piccoli vuol dire sui 2 milioni di euro fatturati che collaborano per dare un servizio maggiore ed integrato ai designer e alle aziende che vanno sul mercato qui non vi abbiamo segnato altre tre reti che in realtà stiamo gestendo che sono tailor made contract che presenteremo stasera proprio qui a Brujera al video di lancio di questa rete un'altra sulla rete un'altra rete che parte dalla Carnia sono 3 aziende della Carnia abbiamo se si aggiunge una quarta per il rinnovamento degli interni di case e spazi commerciali quindi siamo 3 4 5 e la sesta una rete che esiste già più a por di non della quale stiamo discutendo e ci stiamo confrontando perché vorrebbero affidarci la gestione anche di questa quindi in ragione che lui di Venezia Giulia altre reti di impresa non esistono sull'arredo da quello che risulta a me poi magari se ci sono va bene si impara sempre qualcosa quindi ecco queste sono tre piattaforme se vogliamo dire molto concrete sono club privati diciamo così in cui si può provare a entrare si può chiedere si può vedere se si c'entra così come si può essere cacciati la rete è giustamente delle regole che devi rispettare conclusioni perché qui è già passata un'una stiamo quasi finendo poi vi rivelo quello che c'è scritto dietro allora la rete di impresa possa costruire uno dei mezzi con cui le aziende italiane possano far fronte ai cambiamenti di mercato sì se gestite bene sono un mezzo veramente chiedetemi se è fatto bene se ottengo i costi se sono presenti sul mercato ripeto non è facile però possibile ci do una battuta anche per un amico che prima ha detto sulla mentalità ero a Bruxelles nel 2009 e c'era un arruinone di tanti cluster manager però quella volta era un concetto un po' il cluster manager anche lì c'è un po' di confusione c'è chi io almeno vedo il cluster manager come manager privato un manager privato che corre a fianco delle imprese per fare business alle imprese e lì quella volta era ancora un po' stava partendo c'erano dei manager privati di cui si parlava ho imparato tantissimo da loro ce n'era uno in Inghilterra che aveva una società che gestiva una cosa stile non mi ricordo 70 reti 70 gruppi di imprese per avere per 400 aziende una cosa così ma veramente cioè tutti i settori questa è l'Inghilterra veramente bravissima un fulmine un signore molto molto bravo e poi si discuteva un po' con tutti e la cosa che era curiosa è che tutti dicevano eh boh ma qui in Belgio è impossibile fare reti perché sai ha una certa mentalità il francese eh ma in Francia non si riesce a fare reti perché ha una certa mentalità Spagna uguale Italia tutti uguali e questo era il 2009 perché io con il mio star si siamo interrogati sul perché e quello che fosse veramente mancato o sta mancando in Italia o sta crescendo magari è proprio il ruolo del cluster manager perché laddove c'è io vi dico certe reti nostre hanno 4-5 anni quindi un'impresa non butta via i soldi se non trovo qualcosa di utile quindi funziona nell'ottica per cui non sono per sempre le reti sono un progetto ricordate non bisogna personalizzare una rete la rete è un progetto non è una nuova azienda finito il progetto è giusto chiudere la rete e magari farne una nuova per un altro progetto quindi le reti sono in grado di far fronte al cambiamento di mercato sì sempre accompagnata del cluster manager la varietà produttiva dimensione sto leggendo la varietà produttiva dimensione delle piccole aziende si è messa in sistema per fare un punto di forza sì perché la flessibilità ormai gli ordini in particolare nell'arredo ma anche in tanti altri settori non ti chiedono più 20.000 sedie tutte uguali 50.000 divani 70.000 mobili 20.000 rossi 50.000 gialli 12.000 blu 7.000 alti 2 cm 14.000 bassi avere una filiera che riesca a customizzarti tutte queste risposte velocemente ed efficacemente è una sfida vinta e lì le varie reti che gestiamo cercano di affrontare come questo la gestione del processo terzo è necessario che le aziende siano disposte a condividere informazioni a fine di raggiungere l'obiettivo quanti giusti per tutti investimenti quindi condividere informazioni e gli investimenti da condividere eccolo qui credo che questa sia l'ultima slide ma sono sicuro questa forma di aggregazione richiede supporto il manager di rete o cluster manager per chiamarlo cluster manager come vedete è una figura che non sappiamo stiamo lavorando a livello nazionale affinché esista una formazione dei cluster manager è fatta bene però non esiste un programma di studi per cluster manager faccio l'esempio parlavo con ho letto una cosa scusate parlavo con l'università australiana loro ad esempio tutte le facoltà hanno un po' di ore di trasversalità cioè poche parole chi fa architettura dopo un po' va a fare delle ore di ingegneria ma ingegneria ingegneria piuttosto che fanno dei progetti insieme tra ingegneri architetti chimici quindi non sono progetti chiusi in loro stessi stessa cosa in economia giurisprudenza mi spiegavano queste multicompetenze nel cluster manager è quello che ci vorrebbe fare una rete è facile è difficile gestirla questa è una battuta finale che ci tenevo a dire fare una rete è facile se volete la facciamo domani mattina vi dico il nome del notaio vi do io il testo è gestirla perché è difficile e lì sta la sfida e da qui arriviamo alla frase che ho qua dietro qua che è questa mettersi insieme è un inizio e rimanere insieme è un progresso lavorare insieme è un successo l'ha detta Henry Ford quindi insomma non l'ha detta neanche l'altro ieri si è passato un po' di tempo quando il signor Ford ha detto questa frase però l'abbiamo stampata dietro nel nuovo ufficio appunto questo nuovo ufficio un lato del nuovo ufficio del distratto del mobile però è vero è vero per noi questo è veramente un gran valore vediamo che Giampaolo tanto che riferito sulla frase Giampaolo tua personale esperienza e impressioni su progetti e-commerce legati alle reti dipende dall'e-commerce sull'e-commerce sono molto 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 caldo un'azienda che fa mobili non è detto anzi 90% delle volte non sa fare e-commerce sono due aziende totalmente diverse diverso è se e questo è un argomento che stiamo affrontando se aziende di mobile affidano la commercializzazione online a un'azienda di e-commerce ce n'è una che sta piano piano crescendo quindi il più delle volte però non fanno una rete sai alla fine sono il rapporto di acquisto distribuzione da parte di e-commerce piuttosto che l'e-commerce prende un appio qualcosa in relazione con il venduto di piattaforme di arredo di e-commerce interessanti c'è Jux di arreda dalani made make design ce n'è è una sfida grossa l'e-commerce credetemi è una sfida veramente grossa per farlo funzionare devi investire un sacchissimo di soldi ma tanti 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 parliamo so di aziende che spendono 50.000 euro al mese solo in adwords non so non mi ricordo l'altro giorno mi aveva detto una persona quanto spende in quanto spende no Amazon ma un altro in adwords su Google ma cifre esorbitanti in cui il ritorno è molto aleatorio quando parlo di e-commerce faccio sempre questo esempio immaginiamo che la rete poi pare che stiamo finendo il tempo 15.59 se avete domande scrivetele subito quindi prima che scada il tempo fate conto che l'e-commerce per me allora il web immaginiamo un grande centro commerciale il web dove si fa le piattaforme è il più grande centro commerciale del mondo perché l'universo non sappiamo quindi tu accedi online e sei nel più grande centro commerciale del mondo a quel punto hai vari corridoi Google Yahoo hai vari motori di ricerca che si usa Google è il corridoio dove ci va più gente tendenzialmente dentro questo corridoio ci sono negozi grandi e negozi piccoli negozi piccoli piccoli immaginiamo sempre che questo corridoio è il più grande del mondo cioè un corridoio gigantesco tu in mezzo lì con il tuo piccolo sito di e-commerce avrai un millimetro di questo corridoio ebay avrà un grande department amazon ha un department gigantesco quindi se lo paragono in termini fisici fare l'e-commerce in termini fisici è un po' come questo sperare che quel qualcuno entri da te e non da amazon che ha il super store gigantesco il che non vuol dire che non funzioni attenzione questo non lo sto dicendo sto dicendo che è molto complesso ha un punto di curiosità l'internet che alle volte esplodono dei progetti di e-commerce di prodotti particolari e hanno una diffusione globale quello è un fenomeno però alle volte calcolabile molte volte incalcolabile e si affida alle volte anche un po' di fortuna poi ci vogliono investimenti eccetera eccetera però ecco sull'e-commerce va trattato va affrontato e con serietà non va improvvisato spero Gianpaolo di aver risposto alla tua domanda vediamo se c'è di sì sì dai Gianpaolo penso di sì ottimo quindi io un po' mi fermerei qui se avete qualche altra domanda sono veramente a disposizione vi invito a guardare il sito clusterarredo.com da cui trovate anche varie cose che sono state fatte in giro altri siti magari sulle reti sui cluster potete guardare il sito del Comet Comet distretto Comet Comet sulla meccanica poi c'è il mondo del cluster mare FWG loro sono legati al mare il parco agroalimentare di San Daniele però loro mi pare che non gestiscono reti di impresa e poi c'è tecnologie biomedicali a Trieste questi sono i cinque macro settori della nostra regione da cui derivano anche le S3 le S3 regionali che è un po' il tema che stiamo trattando quindi S3 che sono le strategie di sviluppo della nostra regione e che noi cluster siamo chiamati a riscrivere a riproporre proprio in queste settimane altre cose non mi vengono in mente da dirvi così vorrò la chiacchiera generata di un'oretta spero che i ragazzi dell'ITS si sia abbassata veloce in questa retta come a tutti voi del resto però ho un particolare affetto per i ragazzi dell'ITS perché stanno facendo un percorso sull'arredo di alta formazione di cui ne abbiamo investito possibile autoaventarsi a Brugnera tra un'ora? ma guarda un'ora e mezza perché inizia alle 5 e mezza quindi vieni pure con piacere faremo anche alcuni dati presenteremo quindi chi vuole venire poi tagliamo il nastro come giusto che sia alle 5 e mezza qui siamo nella scuola abbiamo scelto come sede la scuola la scuola del del legno l'ISIS Carniello qui a Brugnera quindi alle 5 e mezza iniziamo su in Aula Magna siete tutti benvenuti per il resto aspetta ho visto che almeno la scuola e siamo presso la scuola quindi già il fatto di essere insieme è un modo per poter i professori sono ormai qui ci troviamo quasi ogni giorno chiaramente io ho 4 uffici da gestire c'è Brugnera San Giovanni Butri e Tolmezzo però secondo me la formazione è fatta bene è lo strumento con cui possiamo guardare veramente al futuro quindi lì è la sfida fare una giusta formazione ci sono veramente dei buoni istituti io so che qui il Carniello è veramente buono i ragazzi sono ne vedo tanti in gamba c'è l'ITS c'è lì Malignani San Giovanni quindi già stiamo iniziando a ragionare su qualche collaborazione chiaramente il nostro ruolo è da un lato servizi alle imprese dall'altro strategie di sviluppo dell'intero comparto regionale è bello è bello vedere poi è bello vedere tanti ragazzi insomma che vengono anche a chiederti cose e magari iniziano a capire quanto è importante il settore almeno per la nostra regione spero di non avervi annoiato di avervi fatto passare una retta con curiosità di avervi magari incuriosito ulteriormente a scoprire il mondo delle reti di impresa del cluster management e anche dell'arredo in particolare ringrazio tutti voi per il tempo che avete passato con me ringrazio chi ha scritto nella chat che mi ha fatto sentire meno solo e grazie a Loyal per l'organizzazione di questi seminari auguro a tutti voi buone feste perché dubito che ci vedremo salvo con chi viene a volumiera fra un'oretta e mezza e buona giornata ciao ciao